Taglio del nastro per i nuovi progetti museologici e di valorizzazione del Museo 900 di Firenze, organizzati da Muse, che portano la firma del neodirettore artistico Sergio Risaliti. Progetti focalizzati sulla riorganizzazione dell'allestimento delle collezioni permanenti, tra cui spicca il lascito Alberto della Ragione e sul potenziamento del programma delle mostre temporanee con l'apertura di nuovi spazi espositivi. Dario Nardella, sindaco della città metropolitana di Firenze. Questa è una bella giornata perché il Museo 900 si appresta a vivere una seconda vita. Ha arrivato quasi a quattro anni di attività, un momento difficile per affermarsi in un contesto culturale, quello di Firenze, nel quale predomina inevitabilmente l'arte classica, l'arte del passato, il rinascimento in particolare. Molti non ci credevano, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che Firenze potesse avere un luogo con una precisa vocazione legata all'arte moderna e contemporanea. Così non è stato. Oggi però siamo consapevoli che sia necessario dare una svolta proprio per aprire a questa seconda fase Museo 900. Il disegno dello scultore, progetto espositivo ideato da Sergio Risaliti, a cura di Eva Francioli, Francesca Neri, Stefania Rispoli, visibile fino al 12 luglio, ma anche Paradigma, il tavolo dell'architetto, il buio ai margini della visione, a cura di Marco Bazzini in collaborazione con Isia Firenze, sono alcune delle varie mostre allestite con una programmazione espositiva che verde sul recupero di nuovi spazi da dedicare alle mostre temporanee. La riorganizzazione delle collezioni è finalizzata a migliorare in modo significativo la fruizione da parte del pubblico. Sergio Risaliti, direttore artistico Museo 900. Un museo 900 che è potenziato nei suoi spazi espositivi, nella valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea, nei programmi di educazione e mediazione culturale. Il museo è un corpo vivente, deve essere utilizzato e fatto vivere in tutti i suoi spazi, in tutti i suoi luoghi, già dall'esterno, dall'alloggiato che si affaccia sulla piazza con questa magnifica installazione di Paolo Parisi, la parola museo, perché vogliamo partire da lì, svecchiare addirittura il termine museo con il quale troppe volte si identifica una città statica, cioè Firenze Città Museo. Il Museo 900 ha oggi anche un volto nuovo, con un'installazione sulla cancellata esterna posta in dialogo con Piazza Santa Maria Novella, che riporta la scritta Museo, ed è progettata dall'artista Paolo Parisi in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Marco Bagnoli, Paolo Masi, Maurizio Mannucci, Remo Salvadori, danno invece vita a Grafz, progetto che in occasione del riallestimento della collezione del Museo 900 vede le opere dei quattro artisti fiorentini poste in stretto dialogo con l'architettura rinascimentale dell'ex ospedale delle Leopoldine.